La tempesta perfetta che ha causato l'aumento vertiginoso del prezzo del gas naturale e conseguentemente delle bollette elettriche per imprese e famiglie sembra sia in una fase al momento inarrestabile. CNA Abruzzo in una nota diffusa ieri ha avanzato una richiesta chiara e precisa in tre punti alla giunta regionale. Ce ne parla il direttore Graziano Di Costanzo. Un tema quello del caro energia che avete già evidenziato a livello nazionale. A livello regionale che cosa chiedete? Noi a livello regionale chiediamo l'attivazione di un tavolo urgente da parte della regione per ragionare sostanzialmente su tre questioni. La crisi energetica sta impattando drammaticamente sui costi delle imprese, molte chiuderanno per questo motivo. Quindi il tavolo regionale serve essenzialmente per vedere se ci sono risorse da fondi comunitari o da PNRR o da altro per abbattere i costi delle imprese. Due, capire con la regione se ci sono progetti di impianti da fonti rinnovabili che possono essere attivati subito nella nostra regione. Terzo, noi abbiamo una proposta che abbiamo dato al governo Giadraghe e oggi alle forze politiche di coprire tutti i capannoni artigianali, industriali e commerciali con pannelli fotovoltaici, sostanzialmente per l'autoproduzione. Con un accredito di imposti del 50% noi in due o tre anni potremmo raddoppiare la quota di fonti da energie rinnovabili nel nostro paese. Oggi dipendiamo per il 40%, dipendevamo prima della guerra, dell'invasione della Russia sull'Ucraina, dipendevamo per oltre il 40% dal gas russo. Oggi abbiamo diversificato le fonti con l'Azerbaijan, l'Algeria o altri paesi, l'Angola, ma noi dobbiamo diventare indipendenti puntando molto sulle fonti da energie rinnovabili. In base ai vostri dati, al vostro punto di osservazione, quali sono i settori più a rischio? I settori più a rischio sono sicuramente quelli della produzione perché sono più energivori rispetto a quelli dei servizi, però mi faceva l'esempio ieri un nostro associato che ha un bar, da gennaio ad oggi ha raddoppiato, gli è arrivata una bolletta con un raddoppio dei costi dell'energia, mi ha detto in questo modo io difficilmente posso continuare l'attività. Un'ultima cosa, siete ottimisti su questa vostra richiesta? Il tavolo della regione io spero si convochi immediatamente perché la regione non ha competenze specifiche, ma la regione ha il dovere di provare a trovare delle soluzioni nelle direzioni che noi abbiamo indicato, poi ci sono anche sicuramente altre questioni. Speriamo questa volta che la regione ci ascolti e si dia da fare immediatamente, per il resto chiaramente il governo Draghi è un governo di missionari ormai che è in carica solo per le questioni ordinarie, ma speriamo che faccia fino in fondo il suo dovere. Grazie.